Senza un briciolo di Tesla, siamo ritornati, oggi l'intro la faccio io, ho fregato il posto a Snuggle che ha un po' di problemini con Discord, ma ragazzi, oltre a Andrea Ciao a tutti Cristiano Buongiorno E Snuggle Ci sono però, ci sono Abbiamo due ospiti che non so se voi dalle facce li riconoscete, ma sicuramente molti di voi conoscono quello che fanno Cioè, sono i creatori, gli ideatori e quelli che hanno avuto la bellissima idea di creare il sito di Tarifev che più o meno tutti stiamo utilizzando, ha avuto un boom incredibile Simone e Valerio Ciao a tutti, buongiorno Ciao a tutti, buongiorno Grazie di essere venuti, noi ci siamo già fatti una bellissima chiacchierata in privato un po' come il podcast, come fossimo stati al bar mi avete raccontato un po' di cose, adesso le portiamo a fattore comune e intanto Snuggle prova ancora a vedere se riesce a fare i suoi tentativi Io voglio sentire una domanda per una persona che non conosce il servizio una presentazione iniziale, visto che io lo ammetto, vi conosco, ma non ho mai indagato più di tanto Questo è un problema Questo è un problema è un problema perché da utilizzatore della mobilità elettrica effettivamente bisogna conoscere Tarifev Dunque noi siamo nati, io faccio una rapidissima introduzione e poi lascio la parola a Valerio Noi siamo nati da un'idea messa a fattore comune un'idea nata da una semplificazione sostanzialmente una semplificazione di quello che era il mondo della proiezione delle tariffe dei vari operatori di ricarica Il primo vero e proprio contatto ce l'abbiamo avuto io e Valerio credo a fine luglio, inizio agosto 2023, quasi per caso perché comunque notavo sui vari gruppi Facebook and company che Valerio ogni tanto ciclicamente postava questa tabella estrapolata da uno screenshot fatto su un Excel di tutte le varie tariffe degli allora presenti abbonamenti dei vari operatori allora quel punto lì gli dissi guarda Valerio se per te non è un problema io ci metto lo hosting, i server, tutto quello che ci può essere dietro e questa tabella cerchiamo di renderla più facilmente fruibile verso gli utenti che ne usufruiscono e chiaramente semplifichiamo anche l'operazione di manutenzione e distribuzione e da quel punto poi è nato Tariffe V che nel corso dei mesi è cresciuto, è cresciuto veramente tanto e diciamo che comunque io adesso passerei un attimo la parola a Valerio che su questo tema magari può aggiungere qualche dettaglio qualche informazione in più dal punto di vista di quello che è stata la genesi di Tariffe V allora ciao a tutti diciamo che prima parlo della nascita di quella tabella perché alla fine la tabella nasce un po' da tutti da un'esigenza che avevo io personalmente dovevo fare un viaggio con la famiglia a Vienna avevo acquistato la Tesla da due mesi considerate che io abito in provincia di Roma quindi si prospettava un viaggio di quasi 1200 km e come neofita della mobilità elettrica ho dovuto per forza, avevo necessità per forza di capire come muovermi nel mondo delle ricariche all'epoca era molto più semplice perché stiamo parlando di quasi un anno fa c'erano gli abbonamenti, tutti li conoscevano conoscevano B-Charge, conoscevano EllenX quindi ho dovuto fare semplicemente il paragone fra due o tre operatori principali e quindi la tabella era molto semplice anzi io ce l'ho ancora qui perché l'ho stampata proprio per quel viaggio eccola, questa è come la sfoga va bene, va bene, non si vede ok, e quindi con questa tabella praticamente ho fatto un conto semplice stimando il consumo dell'auto sui 100 km prendendo i tagli dei vari abbonamenti ho fatto qualche divisione e alla fine la moltiplicazione e alla fine per fare 1200 km mi conveniva è andata e 1200 ritorno mi conveniva B-Charge perché? Perché ho fatto tutti i conti e i calcoli e niente, quindi questa tabella poi alla fine non me la sono tenuta per me ho avuto sempre l'istinto di condividere le cose con le utenze ma come ha detto prima Simone nel momento in cui tu fai il post su qualsiasi gruppo Facebook tempo 5 minuti quello già sta in ventesima posizione quindi non lo vede più nessuno e quindi ripetitamente postavo questa tabella e poi Simone mi ha contattato e mi ha spiegato come è andata la questione e siamo cresciuti quindi dal momento in cui io e Simone ci siamo messi sotto a sviluppare questa tabella questo sito siamo cresciuti e è stata la necessità di aprire tutti i vari canali social quindi siamo partiti con la pagina Facebook il gruppo Facebook l'altro giorno ho aperto Instagram che ancora conta poco di una settimana quasi 200 follower ma non considerate che non lo sto neanche pubblicizzando quindi e su Whatsapp abbiamo aperto siamo oltre quasi 600 utenti e Whatsapp l'abbiamo utilizzato per la grande novità che stavamo per lanciare e questa però la lascio a Simone perché è praticamente Simone quello che sta facendo il lavoro più grande io inserimento dati quindi quello che ho fatto della tabella lo sto inserendo sul sito sulla famosa app ma Simone vi parla della parte tecnica sì sostanzialmente ciò che nel corso dei vari mesi è stata la fruizione della pagina web con la visualizzazione di tutte quelle che erano le tabelle inizialmente molto semplici perché inizialmente all'incirca un anno fa parlavamo di operatori puramente orientati a degli abbonamenti e successivamente lo scoprire di tutta una serie di operatori esteri a consumo a tariffazione mista e così via ha portato di fatto ad una grandissima estensione di quello che è il sito web questa estensione ha iniziato a mostrare tutti i suoi limiti limiti chiaramente dettati non solo da una fruibilità pura in senso stretto delle informazioni per l'utente ma anche dei limiti nostri di gestione perché chiaramente gestire una tabella è diverso che gestire sei tabelle con tutta una serie di informazioni spesso referenziate in modo misto o comunque con tutta una serie di note particolari tutto ciò comunque abbiamo visto che dal punto di vista della community è stato estremamente apprezzato voglio dire da quando abbiamo letteralmente lanciato il sito siamo già a circa 110.000 visualizzazioni nell'arco di sei mesi sette mesi scarsi ecco sì con un ritmo di crescita che comunque si attesta su delle numeriche abbastanza elevate giorno per giorno come considerazione già sul finire dell'anno precedente assieme a Valerio abbiamo pensato a cercare di dare un nuovo volto a quello che potesse essere non tanto il servizio tariffe W cioè non tanto il sito ma il vero e proprio servizio di tariffe W si pensava ad un'applicazione mobile l'applicazione mobile effettivamente è stata sviluppata in corso di beta testing da parte di circa 75 utenti equamente suddivisi tra iOS e Android l'applicazione mobile che chiaramente verte su un'infrastruttura molto più complessa rispetto a un semplice sito web si compone di un'infrastruttura in cloud e di tutta una serie di crismi legati anche alla sicurezza alla fruizione del dato e alla rapidità e semplicità di fruizione per cui l'applicazione che verrà lanciata a stretto giro ripeto adesso siamo in fase direi ultima di beta testing l'applicazione conterrà non solo tutte le informazioni presenti sul sito web meglio organizzate più fruibili e più facilmente anche ricercabili da parte dell'utente per cui abbiamo studiato una user experience proprio fatta e studiata attorno ai consigli che abbiamo ricevuto dalla community community che in tutto questo ci ha supportato veramente tanto perché un aspetto sulla quale io e Valerio siamo stati sempre molto entusiasti è stato proprio il supporto ricevuto dalla community un supporto che si è dimostrato non solo nella partecipazione organica ma anche nelle donazioni che abbiamo ricevuto oggi TariffEV è un progetto autofinanziato totalmente costruito su quello che sono le donazioni ricevute dai vari utenti donazioni ricevute con i classici buy me a coffee inseriti sul sito web e che comunque ci stanno dando modo di sviluppare dare forma a quelle che sono le richieste che arrivano man mano nel corso del tempo da parte della nostra community per cui tornando rapidamente a quello che è il discorso dell'applicazione vorrei ti interrompo un secondo Simone io voglio ringraziare vorrei proprio sottolineare questo particolare della community la community è quella che ci sta spingendo ad andare sempre più avanti ed è quella che ci sta supportando proprio in maniera enorme anche perché tutte le varie nuovi operatori che ieri ne ho inserito un altro e sono grazie agli user che ha sempre la costante ricerca di nuovi operatori vanno a cercare anche all'estero e quindi sono loro che ci danno i feedback abbiamo ricevuto decine di email su richieste di nuovi operatori tra cui una delle prime email che abbiamo ricevuto ed è quello il motivo perché abbiamo aggiunto il tastino buy a coffee perché altrimenti non ci avevamo proprio pensato è un utente mi contatta e mi dice senti vorrei fare una donazione perché voglio supportare il vostro lavoro e io ho detto guarda io non so minimamente come si faccia perché io faccio un lavoro che è tutt'altro quello che è web e insomma computer grafica faccio tutta un'altra cosa quindi a Simone ho detto ora Simone questo ragazzo ci ha chiesto questa cosa come possiamo fare e lui ha trovato il bottoncino buy a coffee io posso dire quanto abbiamo tranquillamente ricevuto come donazioni tra cui oggi l'ultimo caffè da Francesco perché molti ci lasciano anche dei feedback quindi delle frasi positive e ci riempie veramente d'orgoglio abbiamo superato i 600 euro di donazioni cioè considerate che noi non facciamo null'altro che mettere dei numeri quindi avere tutti questi soldi che per noi sono tanti per semplicemente dare informazioni è qualcosa di stupendo e quindi vogliamo ringraziare tutta la nostra community per supportarci e anche economicamente quindi l'app la stiamo facendo per loro c'è stato anche chi ci ha detto vorremmo pagarla l'app io ho detto assolutamente no perché non siamo non sono gli utenti finali che devono pagare questo tipo di servizio ma è qualcun altro vai sì esatto cioè la nostra la nostra filosofia che è poi quella che stiamo cercando di portare avanti ed è fino a questo momento andata avanti in queste modalità è proprio quella di creare tramite il mezzo di tariffe V un sistema di come dire supervisione rispetto a quello che sono le tariffe imposte dai vari operatori tariffe che in alcuni casi sono assolutamente discutibili dal punto di vista del costo dell'organizzazione delle modalità di fruizione ma comunque l'interesse è quello di cercare di creare un consumatore un consumatore consapevole su quello che è il mondo della ricarica dei possessori di auto elettriche tutto questo appunto nasce in maniera collaterale rispetto a tutti quelli che sono chiaramente i nostri impegni lavorativi e ricevere tutto questo supporto da parte della community ci sta dando veramente una grandissima spinta tant'è che io e Valerio anche se per quanto Valerio possa risultare apparentemente molto molto modesto il grosso del lavoro lo fa lui ecco perché io mi occupo prevalentemente alla sera e di notte nel mettere a posto la web application il lato server il lato infrastruttura la mobile application ma il grosso del data entry lo svolge Valerio su segnalazioni di quello che sono gli elementi della community che è una community devo dire fantastica da questo punto di vista c'è anche i feedback che stiamo avendo dal beta testing ci hanno permesso di andare ad affinare tutta una serie di cose che seppur sviluppandola noi in prima persona questa applicazione ci erano sfuggiti cioè parlo di tante tante idee per esempio l'idea della tabella dimmi dove sei e ti dirò con chi ricaricare che attualmente è presente sul sito web l'abbiamo tramutata in una sezione di applicativo che spero di poter posizionare in maniera pubblica sui rispettivi app store il prima possibile in una sezione applicativa con geolocalizzazione e visualizzazione su mappa delle colonnine attorno alla propria posizione con possibilità chiaramente di filtrare attraverso quello che è un raggio chilometrico quelle che sono esatto quelle che sono le colonnine presenti Alessandro prenderemo anche in considerazione quel tema delle multicard esatto ah poi se c'è possibilità di condividere lo schermo del telefonino possiamo anche far vedere l'app perché noi ce l'abbiamo ovviamente in prova io da circa un mese ce l'ho in prova quindi possiamo anche farla vedere se condivido col telefono certo che è possibile però ricordati che siamo su un podcast quindi non tutti riescono a vedere purtroppo ma questo è un motivo per dire giù no ma sai cosa io stavo pensando mentre parlavi no noi tutte cose ce le siamo anche già un po' raccontate in privato però quello che mi è venuto in mente è o nasceva tariffe V o dovevano fare un corso di laurea per specializzare le ricariche perché da quando avete cominciato diceva bene Valerio prima erano 3-4 abbonamenti che si assomigliavano anche nelle caratteristiche vero dopo si è cominciato a creare un delirio ma un delirio vero perché oltre a essere in tante le offerte nascono proprio su presupposti diversi c'è quello che tariffa a minuto c'è quello che tariffa a kilowattora c'è quello che tariffa a misto c'è quello che tariffa quindi anche dargli una una confrontabilità è tutt'altro che semplice io domani forse userò Fresh Mile sul vostro consiglio dimmi dove carichi ti dirò chi sei però chiaramente lì entra in ballo ok però devo stare attento quanto ce la lascio la macchina perché se ce la lascio di più chiaramente cambia il costo al kilowattora è diventato veramente complicato quindi è come dire il fatto che sia cresciuto tanto anche la community è un sintomo della febbre che c'è sotto cioè del problema che è stato creato che voi avete dato una bella mano a tra virgolette risolvere ma santo cielo hanno creato un casino è un problema è un problema impressionante questo cioè Valerio lo sa benissimo perché comunque installa sul proprio telefono non so quante decine di applicazioni per cercare di capire profili di tariffazione dei vari operatori ed è un disastro ve lo posso assicurare è qualcosa che veramente si scusate se mi interrompo nel frattempo Beltazor ha una domanda la app prevede un limite di distanza della visualizzazione delle colonnine range zone si attualmente si con 4 step da 5 km fino a 100 km di distanza ma con il fatto circa puoi trovare anche un indirizzo perché c'è anche la sezione cerca puoi trovare un indirizzo anche a 1000 km di distanza arbitrare esatto quindi diciamo l'app è stata fatta bene infatti mi avete anticipato perché io prossimamente devo andare da un mio cliente in Svizzera nella zona di Zurigo e se avete bisogno di un beta tester che fa quel tragitto ditemelo io sono super disponibile allora per l'estero ovviamente stiamo ancora in alto mare per l'Italia per l'estero iniziamo a fare allora qui ci hai introdotto il discorso futuribilità quindi la roadmap che che vorremmo fare io e Simone magari iniziamo iniziamo a dire come siamo partiti io e lui a novembre eh Simo io vogliamo dire quando ci siamo incontrati di persone ci siamo conosciuti e già siamo cambiati almeno quattro volte quindi iniziamo col passato così poi facciamo capire come evolve questo tipo di mercato e poi la nostra idea futura vai Simo sì anche perché noi il primo incontro vero e proprio eh al di là di quello che sono stati i contatti digitali eh ce l'abbiamo avuto a novembre 2023 un incontro all'interno della quale abbiamo un attimo lavorato di strategia nel cercare di trovare eh i prossimi sviluppi sia a livello applicativo che anche a livello di community perché comunque ricordiamoci che eh tutto ciò che ne consegue da TariffaEV è una conseguenza diretta del volere della community e di tutto ciò che dal punto di vista eh tecnologico è possibile mettere in pista ecco eravamo partiti con delle idee anche eh disruptive se vuoi per certi punti di vista perché avevamo pensato nel cercare di unificare anche quello che è la parte hardware dei tag di ricarica progettando una soluzione che potesse eh raggruppare più tag di ricarica attraverso quello che avevamo definito un portachiavi elettronico eh ma nel corso comunque del del tempo immediatamente successivo ci siamo resi conto che c'era già in atto un cambio di strategia da parte dei costruttori di colonnine da parte dei vari operatori ovvero il fatto che ehm l'intuizione di caricare dietro un abbonamento non fosse l'intuizione del futuro gli operatori di ricarica quindi vari CPO e MSP stanno andando verso la direzione di ricarica a consumo limitando enormemente quello che è l'utilizzo eh dei piani di ricarica in abbonamento e nel ricaricare a consumo questo fa scopa con l'introduzione dei moduli eh di pagamento NFC sulle colonnine di nuova generazione quindi è stata per esempio un'idea che abbiamo subito preso inizialmente analizzato dal punto di vista tecnologico ingegneristico e poi messo da parte ehm non tanto per la difficoltà di progettazione perché comunque dal punto di vista tecnico eravamo in grado di gestire sia una progettazione che uno sviluppo che anche una produzione di questi dispositivi ma proprio per un discorso di strategia da quel momento abbiamo iniziato a lavorare più sulla parte di alto livello orchestrando al meglio quello che quello che sono le tariffe di riferimento e e poi dal dall'anno nuovo siamo partiti con la web application che poi la web application è di fatto il nostro back end per l'applicazione mobile e da lì è nata la tabella dimmi dove sei ti dirò con chi ricaricare l'applicazione mobile eh all'interno dell'applicazione mobile un targeting geolocalizzato dell'utente delle rispettive colonnine presenti all'interno dell'applicazione e già lì ci siamo scontrati con dei problemi di un certo livello per esempio ehm le colonnine di ricarica come potevamo censire tutte le colonnine di ricarica è un disastro sono sono un miliardo praticamente sono veramente decine di migliaia ci sono operatori che censiscono solamente le proprie altri operatori che censiscono quelli di altri operatori ci sono dei database che mettono a disposizione in maniera più o meno precisa le colonnine di ricarica presenti sul sul suolo italiano europeo internazionale e per cui anche lì una banalità che poteva essere censire tutte le colonnine italiane è stato un lavoro esagerato io mi ricordo di aver di aver passato delle sere dei weekend con Valerio nel cercare di mettere assieme i dati da quattro database differenti e poi una volta messi insieme questi dati cercare di trovare duplicati eliminare le informazioni non necessarie capire capire quale fossero effettivamente quelle realmente installate quelle in fase di installazione insomma un qualcosa che ci ha portato uno sforzo notevole è per questo che adesso siamo limitati solo all'Italia perché allargare questo all'estero per esempio se vogliamo prendere un esempio come Electroverse che ha quasi 600.000 colonnine capite bene che loro non fanno null'altro che prendere un database e metterlo sulla loro pagina mettere la loro tariffa è finito noi no noi dobbiamo fare il paragone con tutti gli altri operatori quindi è un lavoro veramente immenso e lo so di prima persona perché come va detto Simone sono io che lo faccio e considerate che ogni volta che inserisco un operatore io passo dall'ora e mezza alle due ore solo per raccogliere i dati e poi devo inserirli programmarli farla da bella sul sito quindi mi ci vuole quasi mezza giornata solo per un operatore scusate scusate se vi interrompo poi stavo vedendo ci sono un paio di domande io mi tolgo il cappello davanti a voi perché questa è l'Italia che ci piace questa è l'Italia di servizio e poi un servizio diventa imprenditorialità perciò ve lo auguro perciò veramente complimenti perché c'è tantissimo lavoro che non si vede e noi come utenti godiamo solamente dei frutti di questo perciò grazie 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 e penso anche che nonostante il fatto Valerio non sia dell'ambiente però tu invece sei giusto Simone dell'ambiente da come capis da come parli si capisce che tu sei abbastanza preparato in materia e quindi voglio dire quanto la tua preparazione informatica ti ha agevolato nella nell'accogliere una richiesta a furor di popolo perché se non ho se non ho capito male io vi seguo da un po' la richiesta dell'app arrivava proprio da noi arrivava proprio dagli utenti perché io leggevo cavolo ma quando è che fate un'app infatti anche io una volta sono andato a guardare sul mio app store e dico che peccato che non ci sia un'app perciò anche lì voglio dire è anche grazie alle vostre capacità tecniche che a questo punto siete lì perché io sono un chimico e penso che probabilmente non sarei mai riuscito ad attivare a impostare una cosa del genere sì allora sicuramente il background ha fatto molto nel senso che nella vita di tutti i giorni io sono un imprenditore digitale lavoro nel settore più nello specifico io mi occupo di sistemi per l'automazione industriale e la manutenzione predittiva per cui comunque all'interno di questo ambiente ci lavoro da una decina d'anni ma al di là dell'apporto lavorativo c'è proprio una passione intrinseca che arriva fin dai tempi della scuola e poi delle università e anche del tempo libero perché devo dire che tutto questo si riverberà inevitabilmente anche nel tempo libero è chiaro che la richiesta appunto raccolta furor di popolo di creare l'app è stata il catalizzatore perché ho già in passato ho già sviluppato altre mobile application abbiamo pensato un attimo devo essere sincero prima di mettere giù l'app mobile ci abbiamo pensato un attimo perché so bene quali sono le difficoltà che si incontrano nello sviluppare un'applicazione mobile so bene quali sono i costi perché sembra semplice ma i costi nascosti dietro sono piuttosto elevati parliamo di costi legati ad un licensing di sviluppo che per esempio nel mondo Apple è fatturato sul scala annuale i costi di gestione dell'infrastruttura cloud perché comunque abbiamo dovuto mettere su un server un'infrastruttura dedicata con dei microservizi associati per far sì che appunto l'applicazione anche a fronte di migliaia e migliaia di richieste possa essere fruibile senza colpo ferire ecco per cui ci abbiamo pensato un attimo soprattutto non tanto per quanto riguarda l'impatto economico perché l'impatto economico avremmo potuto gestirlo tranquillamente anche io e Valerio ma più che altro per la difficoltà è tutti i cavilli che nascono nel costruire una mobile application vi faccio un esempio di una banalità assurda ma è stato comunque ed è ancora in questa fase uno degli elementi il nostro cruccio più grande ovvero il fatto che il componente che stiamo utilizzando per il rendering delle mappe su iOS funziona perfettamente anche con migliaia migliaia di punti renderizzati su Android abbiamo dovuto limitare il numero di punti renderizzati in termini di colonnine per far sì che i dispositivi non iniziassero a laggare ma laggano comunque purtroppo è quello abbiamo limitato a 200 punti e ancora lagga quindi è un problema d'Android è un problema di componente in questo caso un problema è un problema del mestiere non so è un problema di componente e stiamo attendendo che chiaramente questo componente qui venga aggiornato per far sì che anche su Android si possano aprire letteralmente i rubinetti renderlo totalmente fruibile poi è chiaro l'applicazione è stata un po' come dire lo scoperchiare il vaso di Pandora perché mentre eravamo lì io e Valerio nel cercare di scrivere le funzionalità dell'applicazione mobile eravamo veramente immersi in un turbinio di idee se io vado a guardare le nostre chat su Whatsapp le nostre chiamate email scambiate è un continuo dire ma se facessimo questo ma se mettessimo quest'altro ma se questo lo facessimo in quell'altro modo e quindi tutto questo ha aperto tutta una serie di sviluppi che veramente in futuro ci piacerebbe poter rendere operativi direttamente dall'applicazione come per esempio arrivare a stabilire un canale di acquisto preferenziale di quelli che sono i pacchetti in abbonamento comunque di convenzione particolare verso determinati operatori con la quale ci piacerebbe anche poter ragionare in termini di partnership per facilitare ancora di più l'elemento di fruizione della community perché una community è forte quando riesce a portare un messaggio comune condiviso dal momento in cui il mercato perché il mercato ci vuole segmentati come singoli individui il divide timper in questo caso la fada padrona per cui agli operatori fa comodo avere i propri consumatori completamente iper segmentati o comunque confusi dalle offerte e dalle tariffe presenti sul mercato dal momento in cui noi come community riusciamo ad orientarci verso immaginiamo così il tutto per semplificare un gruppo di acquisto dedicato o comunque una community che stringe magari un accordo un accordo quadro con l'operatore x y z e permette la fruizione di tariffe di ricarica agevolate li abbiamo vinto perché il concetto di community lo si porta alla realizzazione massima ed è questo quello alla quale stiamo puntando effettivamente perché tariffe v e si pone proprio in questi termini cioè la nostra mission è questa non abbiamo particolari non abbiamo particolari chiusure nel dirlo e anzi nell'immaginare tariffe v come un elemento sì che sorveglie il mercato che funge da arbitro lasciatemi passare il termine rispetto a quello che sono le tariffe dei vari operatori ma che allo stesso tempo possa offrire un servizio anche di convenienza verso la community senti vi faccio una domanda visto intanto complimenti tutto molto interessante non pensate che questa tipologia di servizio sia frutto del fatto che il mercato sia ancora troppo giovane la risposta la risposta è abbastanza scontata e quindi qui viene il secondo pezzo della mia domanda che è quando prevedete che voi magari che ci state dietro alle tariffe eccetera che il mercato si appiani un pochino e che quindi diventi molto più maturo di adesso perché il bisogno di avere tariffe è dettato dal fatto che da una colonina carichi a 0,80 e dall'altra carichi a 0,40 cioè la differenza non è come andare dalla Shell o dalla Agip che è la differenza di 3 centesimi di euro e quindi dici chi se ne frega poi ci sono quelli che chiaramente fanno anche coda per un centesimo di differenza nel caso della mobilità elettrica la differenza è talmente abissale che una ricarica completa ti può costare 17 euro 15 euro quello che è oppure 90 euro che quindi è una differenza chiaramente uno ci pensa prima di andare a caricare da una parte piuttosto che dall'altra quanto manca secondo voi prima che arriveremo al punto in cui questo ragionamento della Agip verso Shell si possa applicare anche alle colonine tradizionali alle colonine delle auto elettriche allora per rispondere a questa domanda parto innanzitutto dalla diciamo mi collego un pochino a quello che ha detto Simone della parte community purtroppo io stando sui social vedo costantemente persone che si affacciano nuove persone che si affacciano all'elettrico e chiedono di ricaricare come ricaricare quanto costa perché come diceva Simone c'è una disinformazione assolutamente voluta perché gli operatori nascondono anche sui loro siti tra virgolette perché faccio veramente fatica a trovare le tariffe di ogni operatore quindi per me vogliono assolutamente come diceva Simone fruttare l'ignoranza delle persone che si affacciano all'elettrico quindi trovi tariffe a consumo a 90 centesimi anche a 1 euro e 20 al kilowatt e quindi trovi le persone che vengono tra virgolette lo voglio utilizzare però come termine perché per me questa è truffa a tutti gli effetti perché come dicevi tu un conto è pagare 0,40 0,42 un conto è pagare 0,40 1 euro quindi la questione è fondamentalmente questa io faccio l'appello a tutta la nostra community di far conoscere il nostro sito perché e qui torno alla risposta sulla seconda parte come faremo a appiattire i prezzi i prezzi li appiattiamo con i numeri più siamo più riusciamo a indirizzare il mercato su una determinata tariffa o perlomeno anche uscire dagli operatori italiani perché non l'abbiamo ancora preso come discorso ma gli operatori più convenienti sono esteri faccio esempio come Norte Euronics Maison che è tedesca e altre che conosciamo tutti benissimo io ho parlato personalmente col service di Bump di NBV quindi praticamente quindi oppure con Freshmile quindi parliamo dal francese al tedesco meno male che c'è Google Translate che praticamente ci danno delle tariffe che sono decisamente più economiche quindi la questione della parola truffa la metto proprio veramente perché un conto è che se io prendo un operatore italiano e mi fai 2, 3, 4 10 centesimi di differenza un conto prendo l'operatore estero e mi fa il 50% del disconto quindi l'appiattimento lo avremmo quando noi con tariffe V ed è questo uno dei principali scopi della nostra app è creare un portafoglio un database di utenze noi ci siamo prefissati nel primo mese 10.000 persone ma considerate che il mercato italiano sono 222.000 auto elettriche quindi io voglio i 222.000 registrati sulla nostra app perché perché quando poi magari potremmo interfacciarci con una partnership che può essere come Enel con V-Charge io capisco che loro sono colossi dovuti a altre diciamo introiti ma al mercato dell'elettrico stiamo 220.000 persone 220.000 auto al 4 5% quindi se noi vogliamo arrivare solo al 50% sono 20 milioni di utenti e insomma anche se sei un colosso come Enel e V-Charge comincia a pensarci anche molto molto prima quindi l'appiattimento di prezzi ci sarà nel momento in cui tutta la comune di elettrica saprà come orientarsi esatto però altrimenti lo scende si aggiungo un pezzettino al ragionamento di Andrea perché giustamente dice quando finirà questa complessa quando comincerà a finire questa complessità come successe sui cellulari con le prime tariffe se vi ricordate o forse me lo ricordo solo io che ero troppo vecchio sono troppo vecchio però se ci si sposta da un discorso di abbonamento a un discorso a consumo che è quello che sta succedendo la necessità dell'interoperabilità cala perché lì c'è un nodo c'è una gestione dell'interoperabilità che è ancora uno dei fattori di rialzo dei prezzi perché c'è un monopolio sostanzialmente allora mi dico nel momento in cui si va verso la minore importanza dell'interoperabilità dovremmo poi attendere arrivare a un mondo dove succede quello che succede con la benzina sostanzialmente cioè io vado pago a Enel pago a Eni quello che è e dovrebbe essere che quello che mi fornisce quel servizio è anche quello che me lo fa pagare di meno perché l'assurdo adesso è che la colonnina Enel X mi costa di meno su un operatore estero non Enel X che non su di loro cioè quella è l'aberrazione più grande al momento questo è proprio il circo dei matti a me fa doppiamente male sentire e vedermi anche talvolta costretto ad utilizzare un operatore estero e mandare soldi all'estero e vi dico che mi fa doppiamente male per due motivi uno perché credo che l'impresa italiana quando è un'impresa sana è un'impresa da premiare due perché non facciamo altro che deba operare sempre di più quello che sono i servizi offerti dalle nostre imprese il problema qual è è che spesso e volentieri sono le nostre stesse imprese in questo caso non parliamo di piccole e medie imprese ma di letteralmente multinazionali che si tirano la zappa sui piedi chissà per aderenza a determinate linee politiche o per disinteresse rispetto a quello che è la mobilità alternativa questo non lo so e non assolutamente non mi sbilancio nel nel fare questo tipo di supposizioni però effettivamente è un qualcosa che fa male fa male dover utilizzare ad una colonnina una colonnina free to x fresh mile per ricaricare a 40 centesimi perché se si fanno un attimino i calcoli se uno è un un feticista dei numeri e si fa due calcoli spende all'incirca 40 45 centesimi a kilowattora finito tutto quanto piuttosto che utilizzare magari una b charge che sulla stessa colonnina ti fa gli 89 centesimi cioè questo è il vero controsenso per cui le strade sono due o agli operatori italiani conviene lo stesso oppure semplicemente hanno un totale disinteresse nell'assistere a questa fuga di capitali perché parliamo di fuga di capitali a tutti gli effetti ma non credere sai perché secondo me loro prendiamo due numeri a caso facciamolo semplice un euro al kilowattora e 50 centesimi al kilowattora se vai con l'operatore estero che ti fa ricaricare la stessa medesima colonnina ok secondo il mio punto di vista non credo che Enel stia svendendo facciamo finta che la colonnina della Enel gestito dalla Enel per semplicità non credo che Enel stia svendendo e che a loro il costo finito sia più di 50 centesimi quindi di fatto stiamo Enel sta perdendo dei soldi perché secondo me ci sono poi dei contratti sottostanti che permettono a Enel comunque di guadagnare su quei 50 centesimi il problema è che questo mercato che si è venuto creare è anormale perché normalmente noi siamo abituati a pensare al contadino che produce la patata per un centesimo e noi la compriamo per un euro perché ogni passo della filiera che va ad aggiungere un intermediario deve farci un mark up sopra deve aggiungerci la sua fetta perché altrimenti non potrebbe starci dentro la cosa anormale qui però è che è il contrario cioè il produttore Enel su applicazione e tutto quanto mi sta facendo pagare di più della catena di distribuzione perché da Enel c'è un passaggio che è l'operatore estero e quindi è quella la cosa anormale io sinceramente non mi preoccuperei di Enel se sta bene nel senso se loro hanno avuto quel contratto e c'è quella quel prezzo sottostante sicuramente loro in qualche modo i conti se li saranno fatti altrimenti prima o poi la festa finirà con quei 50 centesimi ma io la sento dal 2019 che ci sono degli operatori che costano meno degli operatori esteri che costano meno ma anche italiani che costavano meno su colonine che non erano di loro proprietà e come te la spieghi questa roba qui cioè non ha senso nella nostra cultura generale per il discorso del contadino sì non ha apparentemente senso poi se uno ci va a guardare dentro inizia a fare un cost breakdown di come sono organizzati tutti i vari contratti di interoperabilità riesci veramente a capire dove si ferma il grosso perché noi oggi a livello europeo stiamo assistendo a questa sorta di diarchia degli operatori che gestiscono il roaming su scala europea se non ricordo male sono uno abject l'altro un'azienda francese esatto i quali comunque offrono aderendo a questo network la possibilità di sfruttare contratti di interoperabilità tra i vari operatori anche esteri o comunque che aderiscono a quello che è il servizio in oggetto il problema però qual è? che arrivi a un punto dove tu operatore sia MSP o CPO devi decidere come strutturare la tua offerta per cui orientarla semplice consumo a kilowattora consumo temporale o consumo misto dal momento in cui tu arrivi lì vedi che nel farm ma proprio lo vedi chiaramente perché abbiamo assistito a delle demo con uno di questi operatori che gestisce l'interoperabilità a livello europeo tu vedi che a una certa hai un muro che è il muro del CPO comunque di chi è installato la colonina di chi la fa funzionare di chi la mette all'interno del proprio network e la collega all'interno del network europeo che sono per esempio i 40 centesimi a kilowattora e da quel muro tu non puoi scendere puoi solo salire chiaramente io non voglio dire che debbano regalarci la corrente perché assolutamente so benissimo un'impresa quali costi è portata ad affrontare ma c'è anche da dire che se consideriamo tutto quello che è accaduto negli ultimi anni ovvero il fatto che la grande maggioranza delle colonie di ricarica soprattutto le HPC sono state installate con un forte contributo dell'Unione Europea e che il costo dell'energia a parte lo shock che abbiamo subito circa un anno e mezzo fa due anni fa oggi ci ritroviamo con un PUN che è veramente ai livelli della pre-crisi della guerra in Ucraina voglio dire tutto quello che effettivamente ci stanno aggiungendo in più è assolutamente puro profitto per questi operatori poi chiaro io non voglio fare i conti in tasca a nessuno chiamamolo extra chiamamolo extra profitto io non voglio fare i conti in tasca a nessuno però mi metto dalla parte del consumatore perché io in prima persona sono un consumatore io faccio ho una media di ricarica di circa 6-700 kilowattora mese presente ecco presenti ecco all'incirca parliamo di 45.000 km all'anno poco più poco meno ecco e voglio dire da consumatore queste cose vanno prese in considerazione per cui secondo me un momento in cui potremmo il momento in cui potremmo assistere veramente ad uno shock del mercato può essere sì chiaramente se si crea una community di consumatori consumatori comunque coerenti e coscienti del fatto dell'esistenza di tutte queste tariffe e chiaramente la possibilità di poter orientare questa community su degli accordi specifici e qui ripeto la community di tariffe v può farla da padrone in questo caso oppure dovremmo attendere non si sa ancora quanto tempo l'arrivo in Italia della famosa Iliad della mobilità elettrica ecco però qui abbiamo un grandissimo punto interrogativo quando arriverà se arriverà e soprattutto se arriverà con quali metodi modalità e così via ecco il mercato italiano è un mercato molto particolare se guardiamo chi ha installato oggi le colonnine chi ha in mano la grande distribuzione e manutenzione di queste colonnine parliamo di gruppi come il gruppo Eni il gruppo Enel o comunque gruppi che esatto A2A che hanno inserito all'interno del proprio portafogli anche questo tipo di questo tipo di opportunità per il consumatore però abbiamo avuto avuto modo comunque di assistere anche ad un rapidissimo immediato cambio di direzione da parte per esempio di B-Charge che è un'azienda del gruppo Eni che è lì chiaramente chi vendeva petrolio fino al giorno prima si è scoperto interessato anche a vendere energia elettrica e nel portare avanti questo tipo di meccanismo di oserei dire quasi posizionamento avvantaggiato all'interno del mercato sta cercando comunque ha cercato di portare la stessa filosofia anche nel mondo elettrico esattamente sicuramente infatti infatti hai proprio anticipato la mia considerazione alcune sembra proprio che vogliano riproporre la modalità ormai usuale nel mondo del petrolio anche in un mondo che è completamente diverso dal petrolio tant'è che poi alcune aziende sono leggermente in conflitto di interessi guarda un B-Charge un Eni B-Charge Eni è colosso mondiale nel colosso mondiale petrolifero e guarda caso nel momento in cui si sono messi a entrare nel mondo della dell'energia elettrica prima hanno fatto delle tariffe super iper mega poi a un certo punto hanno detto no sapete cosa c'è da domani si chiude il punto io posso anche specificare qual è stato quel punto sentiamo sentiamo che ci si incuriosisce il punto è non perché uno vuole parlare di politica ma perché comunque è collegata è strettamente collegata il punto è quando sono stati cambiati gli amministratori delegati di quelle due società quindi quando è stato cambiato l'amministratori delegati di Eni che adesso è live come si chiama ed Enel Enel è stato cambiato per primo e dopo un mese è stato praticamente aboliti gli abbonamenti o aumentati raddoppiati e Eni ha fatto la stessa cosa quindi in un ministro apertamente dichiaratamente contro l'elettrico e poi invitano Elon Musk in Italia ben due volte guarda caso adesso cominciano uscire i primi articoli che vogliono far aprire la fabbrica di Tesla qualche gigafattori qui in Italia ecco questo è il grande paradosso italiano finché non si cambia si diventa leggermente lugimiranti perché alla fine parte tutto dalla politica se non facciamo se non si cambia passo l'Italia è destinata veramente a essere il peggio paese a livello di vista sullo sviluppo dell'elettrico c'è poco da fare io noi e i miei i miei amici di podcast possono confermare facciamo sempre una considerazione sul fatto che la disinformazione soprattutto nel nostro mondo regni incontrastata tant'è che ormai si sono formate si è formata una guerra di trincea scusate non è bello usare il termine guerra in questo periodo però ci sono due fazioni che sono i novat e i provat è una cosa veramente allucinante ridicola sì e una secondo me una come posso dire iniziativa come la vostra dovrebbe essere presa anche presa ad esempio anche e utilizzata anche dai concessionari dai concessionari di automobile perché alla fine è anche contro il loro interesse andare a vendere una vettura trovandosi magari dopo il proprietario di questa vettura che torna indietro dicendo eh cavolo ma io non riesco a caricarla ma pago di più adesso rispetto a quando avevo la macchina benzina si ritorna nel discorso dell'utilizzare un'informazione a proprio uso a proprio pro in tutto e per tutto no secondo me anche il concessionario deve essere deve dare un servizio soddisfacente anche per vetture che non sono il proprio core business altrimenti guarda guarda ti posso ti interrompo leggermente ma solo perché stai anticipando senza farla apposta quello che per me Simone è l'obiettivo finale del nostro della nostra mission insomma l'obiettivo finale essendo un'app e le nuove automobili contengono app già capite benissimo qual è il nostro progetto finale quindi non tanto il concessionario a noi che il concessionario dice all'utente esiste tariffa e vi poco ci interessa a noi quello che ci interessa è che chi acquista l'auto arriva la colonnina apre l'app nostra e la nostra app ti dice guarda in questa colonnina ricarica con questo operatore premi il bottone avvia scendi metti il il connettore e ricarichi in Plan Game & Go ecco questo è il nostro obiettivo finale lo diciamo pubblicamente così nessuno ci va rubare l'idea no diciamo che questo però comporta quali difficoltà la difficoltà è la prima è inserire la nostra app su Android Auto Apple Auto ma soprattutto comunicare e dialogare con i costruttori di auto perché la tecnologia Plug & Go presuppone l'account sulla sull'auto ecco io prendo un'auto che può essere una BMW non parlo di Tesla perché lo sappiamo tutti benissimo che Tesla è stata la prima che ha fatto il Plug & Go e da questo punto di vista Tesla fa la padrona Tesla ha anticipato ciò che gli altri ancora si sognano e noi vogliamo fare un qualcosa che già fa Tesla quindi alla fine non ci vogliamo inventare nulla ma che è aperta a tutti quindi a tutti gli operatori sia di ricarica CPO e MSP e sia a chi costruisce le auto posso interromperti un secondo solo per aggiungere una sfumatura di colore adesso non ricordo esattamente l'auto che hai mandato ieri Ale ti ricordi qual era la recensione dell'auto la Volvo X30 ecco era la X30 ecco ok è stata fatta la recensione di questa persona che diceva ci voleva tanto ad arrivare a questa soluzione qui praticamente la racconto molto semplicemente poi magari lasceremo il link al video che è fatto fatto molto bene tra l'altro praticamente questa nuova auto è in grado di usare la mappatura di Google Maps per dirti anche dove fermarti cosa che noi teslari utilizziamo già da da segnare ora VRP insomma lo fa a Better with Flying sì ma dico ma gli altri gli altri il ragionamento che fa questa persona che fa il video dice ma gli altri che fanno che stanno facendo cioè ci voleva così tanto ad arrivarci che forse una persona che si avvicina alla mobilità elettrica ha bisogno di avere anche queste informazioni esattamente evidentemente la risposta è sì evidentemente la risposta è sì integrata a un'offerta commerciale più economica si ferma apposta abbiamo risolto qualsiasi problema di ricarica questo è io non voglio non voglio fare mettere sul sul tavolo in alcun modo alcun marchio ho fatto diversi test drive legati comunque alla mobilità elettrica prima di proiettarmi su Tesla un marchio molto noto tedesco ha la mia domanda ma come faccio a capire dove devo ricaricare come vado a ricaricare e così via ma mi disse proprio scaricati l'applicazione a BRP e usa quella lì per ricaricare o comunque per capire dove quando e come fermarti per ricaricare perché il computer di bordo non è ancora così ottimizzato non parliamo non parliamo di una decada fa parliamo di gennaio 2023 ecco questo effettivamente fa pensare di quanto i nostri costruttori io parlo degli europei perché chiaramente i cinesi non fanno testo sono se non al pari ci si avvicinano molto quelli che sono i livelli di Tesla nell'integrazione e nel poter fruire tutte queste informazioni ma parlo dei nostri operatori europei sono un passo indietro e questo essere indietro effettivamente li sta un po' penalizzando poi va capito se effettivamente questo essere indietro è dato un po' da una volontà insita nel non crederci così tanto all'elettrico perché fino all'altro ieri costruivano motori a gasolio e oggi si ritrovano un po' per volere del consumatore un po' per volere di normative europee o nazionali a dover in maniera come dire così costretta a dover esplorare e progettare anche l'elettrico però effettivamente i nostri europei sono un po' indietro e noi lì possiamo essere d'aiuto in tutto ciò perché tariffa W può essere un piccolo pezzettino di un qualcosa di molto più grande molto più esteso e inserito all'interno di un contesto di mobilità elettrica universale se ci pensate certo però mi è venuto un paragone secondo me gli altri produttori di auto non Tesla perché sappiamo che Tesla questa funzionalità ce l'ha già dentro anche se migliorabile di sicuro però insomma è da una vita che noi ci facciamo il callo e sappiamo bene che il navigatore di Tesla funziona molto bene l'abbiamo parlato anche nell'ultima puntata quella funzionalità la di sicuro non rimani a piedi ecco questo è poco ma sicuro gli altri produttori stavamo raccontando prima che non hanno questa cosa base è come andare in un ristorante mi è venuto in mente questa metafora e il ristorante non c'ha le posate ora sappiamo tutti che tutti quanti siamo in grado di mangiare con le mani ok perché effettivamente l'auto una Zoe o una qualsiasi altra auto che non ha la stessa funzionalità dentro il navigatore che ti permette di sapere dove sono le colonine ricaricare eccetera eccetera equivale a mangiare con le mani lo puoi fare per carità riesci a mangiare ok ti sporchi tutto però una schifezza viene fuori un casino poi dipende cosa devi mangiare quindi è proprio una cosa veramente base cioè noi non andremo mai in un ristorante e ci aspettiamo di non avere le posate cioè è una cosa che diamo talmente per scontata nella nostra cultura che chiaramente quando entriamo in un locale del genere c'è siamo sicuri che c'è però manca ancora nella mobilità elettrica in questi produttori che ancora come stavi dicendo giustamente te non ci credono o non hanno non so gli manca qualcosa per capire esattamente questo mondo complesso che è la mobilità elettrica ecco gli manca sembra quasi che non gli freghi niente sotto un certo punto di vista perché la vedo veramente difficile che un progettista un ingegnere che comunque insomma sono dei colossi sicuramente avranno degli ingegneri che hanno idea di che cosa stanno facendo non è che sono scappati di casa mi rifiuto di pensare che nessuno ci abbia mai pensato prima e la cosa bella è che non dovevano neanche inventare niente perché la forchetta e il coltello ce l'aveva già Tesla potevano già copiare da loro e dire ah guarda loro c'erano le posate cacchio ma è molto più facile mangiare con le posate che senza le posate copiamo quello che hanno fatto loro ma infatti questo è un po' lo stesso lo stesso ragionamento che si è venuto a creare negli Stati Uniti con il con il fattore del sistema di ricarica alla fine chi ha scelto di aderire ad un sistema di ricarica e anche ad una connetterizzazione e gestione dell'ingegneria della ricarica in un certo modo ha aderito allo standard NACS e Tesla quindi qui credo che non ci sia tanto una mancanza di prospettiva nella progettazione ma forse non crederci abbastanza posso anche azzardare un'altra ipotesi io vado ancora più sul venale è ovvio perché alla fine va tutto sulla questione economica voi immaginate marchi come Ford che sono i primi che hanno costruito le auto a pistoni loro sono tutti padroni di brevetti tutti padroni di una tecnologia che ormai ha 150 anni quindi al punto di vista loro di margini di guadagno sull'auto finita sono decisamente superiori ora voi immaginate che Tesla sono anni decenni decine d'anni pure di più che fa accordi commerciali con BYD CATL per le batterie quindi sono arrivati decisamente prima in tempi non sospetti quando il boom dell'elettrico non si sa neanche che esisteva e quindi adesso tutti questi marchi devono acquistare le tecnologie perché già esistono acquistare i brevetti o perlomeno anzi Tesla gli ha dato anche già un passo avanti col nuovo Cybertruck la tecnologia 48 volts che l'ha messa a disposizione di tutti gratuitamente e i marchi quello devono fare devono fare profitto nessuno vuole che fallisca qualsiasi marchio europeo ma se loro pensano di tirare avanti il più possibile perché così hanno più margini sulle auto tant'è vero che le auto termiche sono raddoppiate di costo negli ultimi cinque anni inspiegabilmente perché alla fine sono sempre pistoni che si muovono come 150 anni fa quindi io presuppongo che sia questo il problema che loro devono partire praticamente da zero a livelli di costi di produzione e non gli conviene e aggiungo anche un altro aspetto più magari legato all'area imprenditoriale e divisione perché comunque anche questo è un tema che viene percorso molto e soprattutto oso dire in maniera dissonante da parte della politica ovvero il fatto di dire sì ma se ci proiettiamo tutti verso quella direzione abbiamo un indotto che letteralmente tira giù le serrande e smette di dar da mangiare a migliaia e migliaia di famiglie non solo in Italia ma in tutta Europa il rischio c'è il rischio c'è di andare verso quella direzione ma è un rischio che può essere gestito o meglio specifico si andrà verso quella direzione se si continua ad essere così miopi di fronte a quello che può essere un'opportunità di cambiamento di metodo di progettazione e di lavoro con la mobilità alternativa io non voglio parlare solamente di elettrico come se come se appunto elettrico possa fungere da panacea per tutti i mali ma con la mobilità alternativa e in generale con i nuovi concetti di mobilità si possono sviluppare nuove competenze nuovi posti di lavoro nuove aziende start up gruppi internazionali che magari possono effettivamente incidere con un bilancio rispetto a quello che è il mercato del lavoro positivo rispetto a quello che può essere voi siete l'esempio lampante di questo il fatto che da una passione è nata un'impresa o sta nascendo un'impresa si sta nascendo un'impresa una start up insomma quello che è certamente ragazzi vedo Snugol pensieroso perché essendo l'unico senso di Tesla è lui che dà il titolo al podcast in realtà è per questo che non ero informato su tariffe e via è solo perché sono colui che non ha la vettura ma attende Cybertruck ma attende perché ha ordinato Cybertruck sì quello telecomandato scala 1 a 18 no ragazzi tutti gli discorsi bellissimi ovviamente rinnovi complimenti siete bravissimi spingete duro su un problema poi però leggo leggo l'articolo adozione dell'elettrico in Italia febbraio 3,4% cosa stiamo parlando cioè siamo qui a farci stiamo parlando stiamo parlando che abbiamo e qui subentra un mio sfogo personale ecco siamo qui a pettinarle bambole come direbbe qualcuno il motivo per cui esatto il motivo per cui negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una decrescita di quello che sono i dati relativi alle matricolazioni sull'elettrico in Italia è un motivo fondamentalmente di natura politica stiamo attendendo che comunque vengano ratificati i decreti attuativi per la questione degli ecoincentivi perché la gente si aspetta gli ecoincentivi anche per fare determinati salti tecnologici cioè deve avere comunque la figura paterna dello Stato che nel merito e nel bisogno possa definire una direzione e indicare una via molti consumatori hanno bisogno di questo tipo di approccio e se chiaramente il primo elemento che dovrebbe credere in questa direzione dovrebbe quantomeno dare un sostegno non dico indicare la via come l'unica via percorribile perché non lo è ma inserire all'interno di quello che è il mix tecnologico anche un supporto dal punto di vista politico di quello che può essere la mobilità alternativa elettrica chiaramente molti consumatori dal momento in cui perdono questo appoggio oppure vedono che in prima persona lo Stato i rappresentanti politici non ci credono o che comunque cercano in tutti i modi di ostacolare questo tipo di operazioni si assista a questo tipo di problematiche sono problematiche serie che non possiamo certamente risolvere come tariffe V o come senza un briciolo di Tesla ma deve esserci un'indicazione politica perché comunque abbiamo avuto anche la prova contraria quando gli ecoincentivi c'erano abbiamo avuto la prova contraria di mesi con immatricolazioni in incidenza percentuale a doppia cifra che voglio dire che l'Italia è un qualcosa di da effetto wow proprio potrei anche aggiungere un'altra questione sulla ricaduta no 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 scusami tu sulla ricaduta di occupazionale che si è parlato e questo è un termine cioè un tema veramente importante io posso faccio un esempio semplice se la fabbrica che costruisce tutte le parti in plastica di una qualsiasi automobile che sia termica elettrica idrogeno plutonio sempre parti in plastica servono quindi alla fine molte maestranze rimangono rimangono comunque in essere anche con la mobilità elettrica e la la questione dei posti di lavoro persi è stata una questione policizzata è veramente triste vedere queste cose ovvio che chi produce le bielle magari dovrà produrre qualcos'altro ma comunque produrrà perché le auto elettriche sono sempre automobili ma questo è un ragionamento scusa se ti interrompo hai ragione tu è un ragionamento che è ciclico ogni volta che c'è una tecnologia che potrebbe distruggere quello a cui siamo abituati internet oddio cosa faremo che posti andranno persi i cavalli verso le auto termiche ogni volta intelligenza artificiale verso intelligenza artificiale qualsiasi tecnologia che è più avanti di quella che abbiamo attualmente pone questo problema e ciclicamente viene fuori quello che dice perderemo miliardi di posti di lavoro siamo ancora qui anche di più tra l'altro per sdramatizzare un attimo c'è qualcuno che vi ha trovato un altro un altro lavoro non contento del carico di lavoro al quale siete sottoposti adesso PR94 dice posso consigliare di aggiungere la sezione per le tariffe di casa perciò vedo il cielo vedo il cielo no no non vogliamo togliere il lavoro a facile.it e secuggio.it esatto 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 no tra l'altro magari visto che ormai siamo anche in fondo alla puntata e non riusciremo a rispondere a tutte le domande che sono arrivate magari se per voi va bene chiediamo a chi ha messo le domande su Twitch di riportarle poi quando pubblichiamo il sito su YouTube in modo che sia possibile rispondere in qualche maniera in modo che rimanga un po' traccia comunque nel video dove siete voi perché c'erano tante cose interessanti in effetti assolutamente bene comunque per me la Iliad del futuro delle ricariche non sarà altro che banalmente la propria casa io la vedo così io ragiono per estremo sarà come caricare il telefono in casa non ragiono tanto lui che ha la casa indipendente ok certo è più facile ma proprio ci sarà un passaggio diciamo a livello proprio mentale del dire io carico a casa quindi il problema di abbonamenti il problema di costi elevatissimi non si porrà nel momento in cui sarà la tariffa quella visto che l'abbiamo detto adesso del vostro gestore energetico domestico quindi secondo me stiamo parlando di un problema passeggero mi piatta che quando Andrea fa questi ragionamenti per esempio il futuro come si potrà effettivamente calmare questa curva di domanda secondo me in futuro ci sarà un appiattimento verso la ricarica domestica questa sarà la Iliad perché a quel punto sarebbe un problema nel momento in cui il kilowattora domestico invece di pagarlo 25 centesimi lo pago 90 centesimi per farci andare la lavatrice allora lì mi faccio delle domande e dico che forse mi stanno fregando ma finché oggi la gente dice la mi fregano ma io la posso caricare a casa certo alcuni non possono fare giustamente è questo il problema di cui stiamo parlando oggi però concettualmente il kilowattora sappiamo quanto ci costa è lo stesso kilowattora che mettiamo dentro durante le ricariche alle colonnine è una questione di adozione in Italia ci arriveremo tra millenni se andiamo avanti così se ci arriveremo magari diventiamo diciamo il mercato del quarto mondo dove ci mandano gli scarti dell'Europa non lo so magari sì e il resto del mondo invece andrà verso un'adozione domestica metti la colonnina nei pacheggi dei box out degli appartamenti metti davanti agli appartamenti un servizio che è collegato alla bolletta dell'appartamento non lo so secondo me sarà quella la vera soluzione caricare le vetture elettriche di notte easy sì allora tutto questo è assolutamente condivisibile abbiamo provato a fare più di una volta questo esercizio ma come pur parli io e Valerio ci siamo resi conto che effettivamente se iniziassimo a considerare quelli che sono i potenziali numeri a fronte dell'adozione di quello che può essere il 20% del parco autocircolante elettrico e della capacità di ricarica in casa che hanno tutti i vari consumatori effettivamente ci scontriamo con una questione numerica una questione numerica che è data non solo dal fatto di magari non avere semplicemente la disponibilità di poter ricaricare con una wallbox o con il famoso carichino direttamente all'interno del proprio box ma ci scontriamo anche con una come dire gestione delle fonti di approvvigionamento energetico che sono assolutamente a svantaggio del consumatore in Italia questo esempio per me funziona benissimo su paesi come la Francia come gli Stati Uniti come l'Inghilterra la Germania forse la Germania per certi versi come mercato e come fonti nel mix di approvvigionamento energetico è più simile all'Italia però comunque l'elemento dell'Iliad di chi ricarica casa è un elemento tangibile sarà sicuramente il futuro per quei paesi che avranno un'adozione molto più estesa in termini numerici in paesi come l'Italia bisognerebbe avere un calcio dalla politica per puntare verso questa direzione perché banalmente bisognerebbe pensare a riconvertire intere centrali di trasformazione cabine di trasformazione elettrica rifare dorsali di distribuzione o comunque anche pensare al fatto che a fronte di una domanda di picco con i nostri sistemi di approvvigionamento energetico potremmo avere qualche difficoltà non voglio dire che se ci colleghiamo tutti l'Italia va in blackout perché non è questo il caso ma comunque potremmo avere un sistema che se non aggiornato potrebbe mostrare le sue difficoltà anche perché oggi nel mercato italiano se non ricordo male avevo letto una statistica un po' di tempo fa c'è qualcosa come il 65 o 72 per cento del mercato consumer italiano che è ancora fisso ai 3 kilowatt e mezzo di fornitura e questo è un problema questo è un problema perché con 3 kilowatt e mezzo o ci tiene acceso a casa o ci ricarichi la macchina perché se ricarichi un kilowatt se ricarichi un kilowattora chiaramente hai più dispersioni che ricarica effettiva in senso stretto quindi è un lavoro molto articolato molto ampio e che richiede sicuramente un cambio di divisione da parte del consumatore e anche un accompagnamento da parte del mercato dei fornitori energetici e della politica che possa magari essere più a sostegno di questo tipo di iniziative sono d'accordo ragazzi io direi che siamo arrivati al limite massimo di durata della puntata ringraziamo magari ragazzi dite dove siete prossimamente che avete un appuntamento importante giusto mannaggia Alessandro allora siamo stati invitati abbiamo anche aperto una partnership con eCharge che è la fiera delle ricariche innovazioni tecnologiche su tutto quello che riguarda il mondo elettrico quindi anche idrogeno perché io e Simone ci siamo stati alla prima edizione l'anno scorso proprio a novembre quando ci siamo incontrati e c'erano sia auto elettriche sia auto idrogeno pullman camion quindi c'era un po' tutto e tutti i vari operatori di CPO di ricariche elettriche quindi le colonnine e quest'anno si fa il 7 e l'8 maggio sempre a Bologna Fiere e siamo stati invitati quindi io e Simone staremo là andremo in giro perché effettivamente ci hanno proposto uno stand ma alla fine se noi stavamo fissi chi ci veniva a trovare insomma noi diamo un servizio di mobilità quindi ci andiamo in giro anche noi quindi ci vedrete a me e Simone in giro per il padiglione i padiglioni per di a importunare i vari CPO a già fare il mio raccordo tagliamo le orecchie diciamo guardate un po' noi quanti siamo ecco andateci pesante pesantissimo soprattutto con i numeri dell'app quindi ecco perché noi vorremmo minimo 10.000 persone in un mese perché se arriviamo con 20.000 a maggio probabilmente qualche CPO ci ascolta nel beneficio di tutti non per nostro esatto ma anche perché voglio dire è un'attività che come abbiamo già detto fin dall'inizio si va ad incastrare nei ritagli di tempo libero e non abbiamo alcun tipo di ritorno economico da tutto ciò quindi è un servizio che stiamo offrendo per cercare di creare una community vigile rispetto a quello che è la giungla della tariffa V grandissimi magari poi dopo la fiera venite e ce la raccontate come è andata si ritroviamo a me no come no va bene ragazzi io vi ringrazio veramente tanto di averci fatto compagnia ci teniamo a mercati poi appunto vediamo poi i commenti le domande cosa succederà il video sarà da come sempre da lunedì su youtube magari usciremo anche con qualche shorts vediamo vediamo un po' siamo anche noi in fase di sviluppo in fase di di casino ma va bene così va bene così ringraziamo tutti ragazzi mi raccomando mettete il pollicione scrivetevi su youtube metteteci le recensioni sui podcast se siete su apple podcast campanellina famosa campanellina era una vita che lo volevo dire campanellina divertitevi ci vediamo tra una settimana ragazzi ciao a tutti buon weekend